Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale di GeneticDNA e a questo nuovo gameplay di questo gioco che voglio proporvi ovvero Sleeping Dogs ho visto alcuni gameplay e mi è piaciuto quindi ho voluto buttarmi anch'io nella mischia con questo nuovo gioco vi lascio vedere l'introduzione Sì, più sepsi! C'è un uomo di chi non mi ha faccio? Si, ma Non mi puoi con il film Lani No posso sentire un uomo Mi puoi con il centro Il mi puoi di Gen è stato un uomo Non ritorno in un'file c'è un'file? c'è una stinksa di money? l'integgio è in un'file, in un'file come qui? vuoi ? c'è un'file? ragazzi, non vuoi torri guarda l'altro, volevo una volta tra un'file ok c'è quello? tu non è ROI? c'è un'file c'è? Cosa? C'è chi c'è? Sì, non so. Come, come, my friend. C'è chiudia? Non, non. C'è chiudia? C'è chiudia? C'è chiudia? C'è chiudia? Voi, non per farlo. C'è chiudia. Non mi ha fatto. C'è chiudia! Non lo so, c'è chiudia, non lo so. Guarda me, chiudia. Non lo so. Eccoci qua iniziamo già subito a palla Dovemo fuggire dalla polizia Corriamo via 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 Cazzo E ci mancava anche questa No Porca vacca Via Purtroppo questo gioco è solo in inglese Con i sottotitoli in italiano Quindi vabbè dovrete leggervi I sottotitoli Iniziamo subito bene Cos'è? Oh pam E' il poliziotto per terra Wow Che botta Oh cazzo Qua non va bene Ehm Via 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 Scappiamo via Porca miseria Via Oh merda Mi so che ci hanno catato Beccati Iniziamo già subito con un arresto Vabbè io mi sono già letto Mi sono già letto la trama che c'è dietro Scritta dietro quindi so che Più o meno di cosa si tratta Però vabbè Addetta da molti dovrebbe essere Uno dei miglior giochi del 2012 Open world Da quello che c'è scritto Vedremo Ho visto Ho visto alcuni gameplay attratti Qua e là E ho voluto prenderlo Vabbè 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 Ok, ora vedremo cosa ci aspetta. Ok, ora vedremo. Ok, ora vedremo. Ok, ora vedremo. Ok, ora vedremo. Vabbè, come avete capito lui è un polizzato sotto copertura. Quindi adesso iniziamo con le nostre missioni. Ok, ora vedremo. Ok, ora vedremo. Bene, nei filmati cerco di non parlare così non vi distrago troppo. Eccoci qua ragazzi. Vediamo cosa dovremo fare. Ok, ora raggiungiamo il nostro obiettivo. Io adoro i giochi open world dove si può andare in giro stile GTA, tanto per capirci. Dove tra una missione e l'altra si può fare anche il cazzo che si vuole. Quindi per cui dove dobbiamo andare adesso? Allora vedremo la visione. Allora vedremo la visione. Oh oh. Iniziano i guai. Iniziano i guai. Oh. Oh. Dai forse veniti qua che mi spacco culo. Pim pum pam 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 pam. Pim pum pam. Oh cominci a divertirmi qua. Poi com'è che si va? Tac tac tac. Eh vai. Mi prendo a cazzotoni, a pugnettoni, a calcettoni. Chi è il prossimo? Uh. Bim. Oh cazzo spingi stronzo. Tac. Patapam. Pam. Molti vanno a vuoto. Vabbè. Oh che male. Oh. Bellissimo. Oh. Morivano gli stronzetti. Altri stronzetti? Oh. Altri stronzetti. Siete morti ragazzi. Pam. 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 E. E. Pam. Cazzo spingi. Oh. Pezzo di merda. Disney sanitario rSCzio. Ecco. Visto che non rispondono dovrebbe essere una specie di tutorial su come. Ma spingono pure gli stronzetti, eh Tre Bam Ok Ma spingono soltanto ste checche Eheh, vaffanculo Il prossimo chi è? Sei tu, vieni qua Aspetta Ah ok, nel coso rosso devo portarlo Uuuuh Chississimo Dai, ma moletta, ah, chatte Yeah, I'm ok Bocchi f***ing assholes So, everything's cool? Well, you're welcome anyway Come on Jackie, let's go see Winston Here we are Winston's mom owns the restaurant What the fuck do you think you're going? Relax man, this is Wei Wei Shen I told you about him, remember? Fuck, we can't keep track of your bullshit friends Jackie No outsider He's not an outsider He's from old prosperity Like us, hochi all day, right? Wei is old school, you know? I grew up with the guy Old prosperity, huh? Why I don't miss you I'm nodire Oh, but Jackie What did you say? No 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 no... You should've seen it, Winston Why'd you just beat up five dozen dogs eyes guys in the market by himself? The mean? The man is really 하면서 Sì, sembra che tu possa usare un'evoluzione. Ma che cosa ha detto? Ah, ah, ha, 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 ha… Where's she now? Ah… She's dead. Ah… Sorry. Moisìa? So, ten guys, huh? You fearless? Is this crazy? Try capable. Uh, huh. We'll see. Conroy, no ho vedo, problemi che abbiamo abbiamo in lasagna, mi non vuoi andar con voi? ok, andiamo risolveri problemi e il mercato oh, oh, cosa vogliano come se? Ah, allenamento. Bene, bene, bene. Venite qua, stronzetti. Au. Cazzo tu. Che te. Che. Ah, ok. Dove sono? Aiuto, non capisco più niente. Sono scomparso dalla visuale. Ok, adesso ruota me. Scusate, ma devo prenderci la mano che comandi, eh? Ah, bam. Eh, c'è di me. Uuuuh. Eh, questi rispondono pure. Yeah. Come on, fight back. Why did you get out of here, huh? Hello, boys. Oh, mi piace il tipo di combattimento. Hey, let me go, let me go, yeah? Boss, we were just leaving. Ciao, ma, huh? E' stato proprio interessante, anche. Che bel berretto da pescatore. Oh, mio amico. So good to see you. How's your family, huh? What do you want, dog eyes? Oh, Winston, wait, wait, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For all time's sake. Let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both sung on eat. Both grown men. We shouldn't be fighting like children. Hey, who's the new blood? It's Wei. Do you remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls with big smiley? Oh, Mimi. Oh, yeah. First girl ever sucked my cock. Oh, respect, strunzo. And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, 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 Wei, what the fuck, man? Seriously, Wei, I apologize. I'm really sorry your sister blew me. The night market is mine, dog eyes. You got C.O.R. in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out. Hey, tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. He hasn't changed. Yeah, he is. He used to be my friend. Jackie, you two go to the night market. You make sure people understand that I'm in control, not dog eyes. Got it? Got it, boss. Momandai. And you fuck up anybody who tries to get in your way. I want to send that fucking message. Bene, questo gameplay finisce qui. Vi aspetto al prossimo. Ciao, ciao da GeneticDNA. Come on. 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 Grazie a tutti